Blitz della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro la Coscarena di Isola Caporizzuto nel Crotonese che controllava il cara più grande d'Europa. 68 i fermi. Agli arresti Leonardo Sacco, presidente della sezione calabrese Lucana della Confraternita delle Misericordie, organizzazione che da dieci anni gestisce il cara di Isola Caporizzuto, ed il parroco del paese Don Edoardo Scordio. Entrambi accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, malversazione e danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture. Secondo le indagini, Sacco avrebbe stretto accordi con Don Scordio e tra i fondatori delle Misericordie per accaparrarsi tutti i subappalti del catering e di altri servizi. Da dieci anni, su 103 milioni di euro di fondi europei che lo Stato ha girato dal 2006 al 2015 per la gestione del centro dei richiedenti asilo di Crotone, 36 sono finiti alla cosca degli Arena. Chiediamo le dimissioni di Alfano perché per quanto riguarda gli arresti in Drangheta che ci sono stati per l'accoglienza di Isola Caporizzuto si dimostra che c'è un business dei migranti che tocca proprio la Drangheta. Alfano è stato ministro dell'interno, non poteva far finta di niente, non poteva non sapere queste cose, quindi noi chiediamo le sue dimissioni, anche perché al centro di questa inchiesta c'è proprio un personaggio che ha partecipato alle convention del partito di Alfano. Da qui la richiesta di dimissioni. Grazie a tutti.